La mia giornata in redazione inizia con l'assaggio di un grande rosso toscano dell'azienda Castello Vichio Maggio. Questa è la bottiglia, il Ripa delle More 2019. Guardate qui, bollino con su scritto 39. In effetti l'anno prossimo saranno ben 40 vendemmie. Prima voglio vedere un po' di più sul loro sito riguardo all'azienda. È un vero e proprio castello, tanto che loro come indicano hanno l'ospitalità, il ristorante, fanno tanti eventi. All'interno della grande tenuta anche ettari vitati e un bellissimo oliveto da cui ricavano un extravergine favoloso. Il Ripa delle More ha segnato un po' una svolta nella produzione aziendale perché ha unito due grandi vitigni internazionali, Cabernet Sauvignon e Merlot, a una varietà autoctona storica della Toscana e del Chianti Classico, il Sangiovese. Mi piace molto questa azienda perché tiene una fattura di alto artigianato, quindi tanto si fa in vigna e poi in cantina si cerca di portare tutta la naturalità che la campagna offre. Assaggerò il vino ma ho pensato anche a un abbinamento e quindi ho chiamato un bravissimo chef giovane, Antonio Ziantoni, del ristorante Zia di Roma. Gli ho descritto un po' quelle che sono le caratteristiche. In questo momento mi sta preparando un piatto, ora lo raggiungo, avrà finito, assaggiamo insieme vino e piatto e vedremo se l'abbinamento è centrato. Giuseppe, assaggiando il vino che mi ha portato oggi ho preso dalla carta un mio piatto e che penso che si abbini molto bene, è il manzo e nocciola. Il manzo che ho portato oggi è un manzo che viene allevato nel Lazio, nella parte viderbese e il taglio è la bavetta. Iniziamo pure, intanto cominciamo a condire il manzo con sale e pepe ambo i lati. Mettiamo del timo e dell'aglio per dare dei profumi, perché è molto importante. Mettiamo un goccio d'olio, aspettiamo che va a temperatura la padella, ci siamo quasi. Mettiamo ulteriormente un pizzico di olio e di sale. Ok, andiamo ad aggiare il manzo in padella, facciamo sì che i padelli vengano saldate ma non eccessivamente. Eccolo qua, come potete osservare, non è esagerata insomma la reazione che abbiamo. Fatto questo spegniamo la padella e lo trasferiamo su una piccola placca da forno, mettiamo la parte aromatica, rimettiamo un goccettino d'olio e lo mettiamo per circa 10 minuti, guardando il peso e il pezzo della carne. A 150 gradi, per circa 10 minuti, poi in base al peso, è importante che siano 50 gradi al cuore. Ecco il nostro manzo appena uscito dal forno, dopo 10 minuti di cottura l'ho tenuto qui, un pochino a far riposare in modo che perde i liquidi. Lo mettiamo sul tagliere, lo tagliamo e lo adagiamo sul nostro piatto. Prima di adagiarlo sul nostro piatto, mettiamo una nocciola sul fondo del piatto, in modo da nappare poi la parte sotto del manzo. Ok, in questo modo. Quindi andiamo a tagliare il manzo, in questo modo. Antonio, buongiorno. Buongiorno Giuseppe. Eccomi, sono arrivato col vino. Ecco qua. E tu sei addirittura d'arrivo. Io sono addirittura d'arrivo. Ripassiamo il manzo nel sangue di rilascio questa volta. Una cosa un po' anomala, ma a me piace molto. Ah, vedi? Ma l'avevi detta questa cosa che avresti fatto, quindi utilizzare il sangue stesso. Lo adagi? Lì nocciola, vero? Sotto c'è la nocciola. Poi andiamo a terminare con una vinagrette di succo di cipolla, olio, sale e un pochino di acido invecchiato. L'andiamo ad agiare sopra come se fosse una specie di vinagrette, se la possiamo chiamare così. Nappiamo bene il nostro manzo. Perfetto. In questa maniera qua. A questo punto è finito? Adesso manca, mettiamo un po' di sale maldon. Ok, perfetto. Ecco qua, in questo modo. Ecco qua. E quel succo lì? Il succo qua è un succo che viene estratto da erbe di campo. Secondo me questa parte è un po' amaricante, sta bene come side per questo piatto. Ah, quindi lo servi proprio separato? Sì, 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 separato. E poi lo andiamo a condire con dell'olio, mettiamo un goccio d'olio, così a crudo, e poi una macinata di pepe. Ecco qua. A questo punto, Antonio? A questo punto il piatto... Ti faccio assaggiare il vino? Eh beh sì, il piatto è pronto. Il piatto è pronto? Poi ti chiederò di tagliarmi in un pezzo. Assolutamente. Allora, Ripa delle More, io te l'ho fatta assaggiare, tu hai pensato subito al piatto. Greve in Chianti, Castello Vichio Maggio, azienda storica del Chianti. Qui una cosa un po' particolare, questo è un loro vino che ha cambiato un po' il segno del Chianti Classico. San Giovese di base, ma poi Cabernet Sauvignon e Merlot, quindi l'unione tra due grandi vitigni internazionali e il San Giovese, che ovviamente è il protagonista assoluto del Chianti Classico. 2019, ottima annata, perché? Perché è stata abbastanza fresca, quindi è annata di eleganza e di finezza. Salute. Salute. Beh, vedi, il vino che ha struttura, che ha corpo, ma... Bello, con questo piatto è... Eh, mi piace molto questa acidità che rimane nel vino. Ti posso chiedermi di tagliarmi in un pezzettino, così assaggio? Assolutamente. Aiudiamoci con una forchetta. Vedete, anche al taglio il manzo è tenerissimo. Prego. Grazie mille. Beh, è tenerissimo. Eh, te l'ho detto. Questa è la cottura perfetta. Senta, la nocciola sprigiona tutta l'aromaticità. Provo col vino. Invito anche a te di nuovo. Sì. Beh, la bocca rimane pulitissima. Ci sta, no? Soprasta il piatto, perché il vino è molto, molto elegante. Mi ha colpito soprattutto questa parte di nocciola, che è bellissima, perché dà una sorta di cremosità. Ci stanno anche col vino. Assolutamente. Antonio, grazie mille. Grazie a voi, grazie mille. Allora, io tornerò a provarlo anche nel tuo ristorante. Assolutamente. Perché se ho capito bene, è uno dei piatti che tu preferis. Sì, è nato da circa un mese e mezzo, quindi adesso è tutto ora in carta. Grazie, perfetto. Grazie mille. Buon lavoro, a presto. Grazie mille. Ciao. Grazie Giuseppe.